In questo tutorial vediamo espressioni di numeri razionali con potenze che si riducono alla stessa base. Partiamo da questo primo esercizio. Apro la graffa, come prima cosa voglio rendere questa potenza positiva e allora eseguo il reciproco di questo numero. Apro la tonda e scrivo meno 3 fratto 11, tutto quanto alla seconda. Poi diviso, apro la quadra, eseguo il reciproco di questo numero e di questo numero. Apro la tonda e scrivo meno 7 sesti alla terza per 11 settimi alla seconda. Chiudo la quadra alla meno 1 elevato alla meno 2 per, qui all'interno posso semplificare per 5, 30 diviso 5 è pari a 6, 35 diviso 5 è pari a 7. Eseguo il reciproco di questo numero per avere la potenza positiva. Apro la tonda e scrivo meno 7 sesti alla terza. Apro la graffa, distribuisco questa potenza potenza 2, meno elevato a un numero pari ottengo più e poi scrivo 3 alla seconda fratto 11 alla seconda, diviso. Apro la quadra, distribuisco questa potenza 3 e poi questa potenza 2, meno elevato a un numero dispari ottengo meno e poi scrivo 7 alla terza fratto 6 alla terza per, distribuisco ora questa potenza 2, 11 alla seconda fratto 7 alla seconda, chiudo la quadra alla meno 1 alla meno 2, poi per, qui distribuisco questa potenza 3, meno elevato a un numero dispari ottengo meno che posso scrivere di fronte e poi scrivo 7 alla terza fratto 6 alla terza. Qui all'interno posso semplificare 7 alla terza con 7 alla seconda, applico le proprietà delle potenze, 3 meno 2 è pari a 1 e allora semplifico 7 alla seconda e al posto di 3 vado a scrivere 1, ossia ottengo 7 alla 1. Ricopio il segno meno, apro la graffa, ricopio 3 alla seconda fratto 11 alla seconda, diviso ed ora eseguo il reciproco di questo numero visto che vi è un meno 1. Posso aprire la tonda e scrivere meno 6 alla terza fratto 7 per 11 alla seconda, chiudo la tonda elevato alla meno 2, poi per 7 alla terza fratto 6 alla terza, eseguo ora questa divisione e quindi ricopio il segno meno, apro la graffa, 3 alla seconda fratto 11 alla seconda, da diviso passo a per, questo segno meno lo scrivo qui di fronte e poi 7 per 11 alla seconda fratto 6 alla terza, chiudo la graffa elevato alla meno 2. Posso semplificare 11 alla seconda con 11 alla seconda, poi per 7 alla terza fratto 6 alla terza, voglio rendere questa potenza positiva, allora eseguo il reciproco di quello che ho all'interno delle parentesi graffe, meno, apro la graffa, ricopio questo segno meno, linea di frazione, 6 alla terza e a denominatore scrivo 3 alla seconda per 7, tutto quanto alla seconda, poi per 7 alla terza fratto 6 alla terza. Distribuisco ora questa potenza 2, meno elevato al numero pari ottengo più, qui di fronte vi è un meno e più per meno scrivo meno, 6 alla terza alla seconda moltiplico 3 per 2 ed ottengo 6 alla sesta fratto, 3 alla seconda alla seconda moltiplico 2 per 2 ed ottengo 3 alla quarta, poi per 7 elevato alla seconda, poi per 7 alla terza fratto 6 alla terza. Posso semplificare 7 alla seconda con 7 alla terza, quindi tolgo 7 alla seconda e tolgo la potenza 3 di 7, cioè quello che resta è soltanto 7. Semplifico 6 alla sesta con 6 alla 6 alla terza, 6 meno 3 è pari a 3 e allora semplifico 6 alla terza e al posto della potenza 6 scrivo 3, quello che resta è meno 6 alla terza per 7 fratto 3 alla quarta. Sviluppando questa potenza e questa potenza e semplificando si ottiene meno 56 terzi. Passiamo a questo secondo esempio. Come prima cosa voglio applicare le proprietà delle potenze in questa divisione. Osservo che i due termini hanno lo stesso esponente che è pari a 4, allora posso riscrivere tutto all'interno di un'unica parentesi tonda. 2 quinti, da diviso posso scrivere direttamente per 15 quarti. Chiudo la tonda alla quarta, ossia l'esponente che avevano in comune e poi tutto quanto alla seconda. Diviso, distribuisco questa potenza 2, meno elevato al quadrato è pari a più e quello che resta è 27 alla seconda fratto 8 alla seconda. Qui all'interno posso semplificare 2 con 4 e quindi scrivo 1 e 2 e poi semplifico 5 con 15. 5 diviso 5 ottengo 1, 15 diviso 5 ottengo 3. Distribuisco ora questa potenza 2, meno elevato al numero pari ottengo più, quindi non scrivo nulla. Poi apro la tonda, quello che rimane qui all'interno è 3 mezzi e quindi ho 3 mezzi elevato a 4 per 2, ossia elevato all'ottava. Da diviso posso passare a per e quindi scrivere per 8 alla seconda fratto 27 alla seconda. Distribuisco ora questa potenza 8 ed ottengo 3 all'ottava fratto 2 all'ottava per 8 risulta essere pari a 2 alla terza e quindi ho 2 alla terza elevato alla seconda fratto 27 è pari a 3 alla terza, ossia 3 alla terza tutto quanto alla seconda. Ricopio 3 all'ottava fratto 2 all'ottava per eseguo questa potenza di potenza e questa potenza di potenza ed ottengo 2 alla sesta fratto 3 alla sesta. Posso ora semplificare 3 all'ottava con 3 alla sesta, 8 meno 6 è pari a 2. Semplifico 3 alla sesta e al posto di 8 scrivo 2. Semplifico poi 2 all'ottava con 2 alla sesta, 8 meno 6 è pari a 2. Semplifico tutto 2 alla sesta e al posto di 8 scrivo 2. Quello che resta è 3 alla seconda fratto 2 alla seconda, ossia 9 quarti. Vediamo questo terzo esempio, apro la graffa, apro la quadra, voglio rendere positiva questa potenza, allora eseguo il reciproco di 4 terzi e scrivo 3 quarti e scrivo 3 quarti elevato alla terza. Poi diviso, qui all'interno posso semplificare per 2, 10 diviso 2 ottengo 5, 6 diviso 2 ottengo 3. Voglio rendere positiva questa potenza e allora eseguo il reciproco e scrivo 3 quinti elevato alla seconda. Poi chiudo la quadra alla meno 1 per distribuisco questa potenza 2. Meno elevato a un numero pari ottengo più, quindi non scrivo nulla e poi scrivo 15 alla seconda fratto 16 alla seconda. Chiudo la graffa elevata alla meno 2. Apro la graffa, apro la quadra, qui distribuisco la potenza 3 e scrivo 3 alla terza fratto 4 alla terza. Da diviso passo a per ed eseguo il reciproco di questo numero, 5 terzi elevato alla seconda. Posso ora distribuire questa potenza 2 e allora cancello e scrivo direttamente 5 alla seconda fratto 3 alla seconda. Chiudo la quadra alla meno 1, poi per 15 alla seconda fratto 16 alla seconda. Chiudo la graffa alla meno 2. Qui all'interno posso semplificare 3 alla seconda con 3 alla terza. 3 meno 2 pari a 1 e allora tolgo tutto 3 alla seconda e tolgo l'esponente 3 di 3. Eseguo ora il reciproco. Apro la graffa, a numeratore scrivo 4 alla terza fratto 3 per 5 alla seconda per 15, lo scrivo come 5 per 3. Visto che qui vi è un elevamento alla seconda, scrivo direttamente 5 alla seconda per 3 alla seconda fratto 16, lo posso scrivere come 4 alla seconda. Visto che vi è una potenza 2, scrivo direttamente 4 alla quarta. Chiudo la graffa alla meno 2. Semplifico ora 5 alla seconda con 5 alla seconda. Poi posso semplificare 4 alla terza con 4 alla quarta. 4 meno 3 è pari a 1, quindi qui scrivo 1 e tolgo l'esponente 4 di 4. Infine semplifico 3 con 3 alla seconda. Semplifico il 3 e la potenza 2 di 3. Quello che resta è 3 quarti. Eseguo ora il reciproco per ottenere una potenza positiva e quindi scrivo 4 terzi alla seconda. Sviluppando si ottiene 16 noni. Passiamo a questo quarto esempio. Come prima cosa eseguo il reciproco di questo numero per ottenere una potenza positiva e scrivo meno 3 alla terza. Poi per, eseguo potenza di potenza, meno 2 per 2 ottengo meno 4 e quindi ho meno 3 elevato alla meno 4. Poi diviso, eseguo il reciproco di questo numero per ottenere una potenza positiva e scrivo 2 terzi elevato alla terza. Ed infine eseguo il reciproco di questo numero per, eseguo meno 6 elevato alla seconda. Per eseguire questa moltiplicazione posso applicare le proprietà delle potenze in quanto la base è la stessa, allora sommo gli esponenti. 3 meno 4 ottengo meno 1 e quindi ho meno 3 elevato alla meno 1. Poi diviso e il resto lo ricopio. 2 terzi alla terza per, posso distribuire questa potenza 2, meno elevato al numero pari ottengo più e quello che resta è 6 alla seconda. Meno 3 elevato alla meno 1 risulta essere pari a meno un terzo. Da diviso passo a per e distribuisco la potenza 3 e scrivo 3 alla terza fratto 2 alla terza, poi per 6 alla seconda. Semplifico ora 3 con 3 alla terza. Tolgo il 3 e al posto dell'esponente 3 scrivo 2. Vado ora a sviluppare quello che ottengo è meno 9 ottavi per 36. A conti fatti si ottiene meno 81 mezzi. vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa eseguo il reciproco di questo numero e quindi scrivo 10 terzi, poi per, vado a distribuire questa potenza 3 e scrivo 4 alla terza fratto 5 alla terza. Da diviso posso passare a per e quindi scrivere per 5 terzi elevato alla terza. Poi da diviso passo a per e scrivo per 5 alla meno 2 fratto 2 alla terza. Da diviso passo a per e quindi scrivo per 9 alla seconda. Da diviso passo passo a per e quindi scrivo per 1 fratto 10 alla meno 1. Ricopio 10 terzi per 4 alla terza fratto 5 alla terza per distribuisco questa potenza 3. 5 alla terza fratto 3 alla terza. Posso semplificare 5 alla terza con 5 alla terza. Poi per, linea di frazione, 5 alla meno 2 vuol dire scrivere 1 fratto 5 alla 2 fratto 2 alla terza. Per 9 lo scrivo come 3 alla seconda. Visto che vi è una potenza 2 scrivo direttamente 3 alla 4 alla terza. Poi per 1 fratto 10 alla meno 1 vuol dire scrivere 1 fratto 10. Osservo ora che 3 per 3 alla terza applicando le proprietà delle potenze abbiamo 3 alla quarta. A numeratore abbiamo 3 alla quarta e allora posso semplificare tutto. Ricopio questo 10 poi fisso l'attenzione su 4 alla terza fratto 2 alla terza. Posso applicare le proprietà delle potenze visto che hanno lo stesso esponente calcolo la divisione 4 diviso 2 ed ottengo 2 e quindi posso scrivere 2 elevato alla terza ossia l'esponente che avevano in comune. Poi per, visto che questo 2 alla terza non c'è più, quello che resta è 1 fratto 5 alla seconda. Questo denominatore di questo denominatore lo passo al numeratore e quindi scrivo per 10. 10 per 10 ottengo 100 per 2 alla terza risulta essere pari a 8 fratto 5 alla seconda è pari a 25. Posso semplificare 100 con 25. 25 diviso 25 è 1, 100 diviso 25 è 4 ed infine 4 per 8 risulta essere pari a 32. E con questo termino il tutorial su espressioni dirazionali con potenze che si riducono alla stessa base. Grazie a tutti.